Sotto questo paesaggio tranquillo, una lumaca ha mangiato dei parassiti che l'hanno trasformata in uno zombie. Questi spettacolari e strani bulbi opulari sporgenti sono i tentacoli della lumaca. All'interno, dei vermi parassiti hanno cominciato la straordinaria impresa del controllo mentale. Questi parassiti hanno preso il controllo sui tentacoli della lumaca e del suo cervello. Fa tutto parte di un piano ingegnoso per estendere la vita del parassita e della sua progenie. La lumaca è posseduta. Il suo destino ora è seguire il volere del parassita. E il parassita si sta trasferendo. È in cerca di un altro ospite. Il parassita adesso ha bisogno di un uccello. Ipnotizzata, la lumaca cammina sotto il sole. Risale dall'ombra fino ai rami in cima più esposti. I tentacoli della lumaca sono pieni dei nuovi padroni e sono cresciuti al punto da somigliare a un verme. E il verme è fra le pietanze preferite degli uccelli. L'uccello attacca in un attimo. Il parassita trionfa. Il verme parassita si moltiplica felicemente nello stomaco del volatile. Il suo ultimo asso nella manica serve a completare il ciclo. Impresa facile, dato che le lumache si nutrono di escrementi di uccello che adesso sono pieni di parassiti che controllano la mente. Le lumache mangeranno e l'ipnosi proseguirà per portare avanti il ciclo vitale del parassita.